bella a tuttavia sono TheKingGaron e benvenuti oggi qui in questo nuovissimo video oggi siamo qui su l'ultimo video sulla beta di Black Ops 4 questo video verrà caricato mercoledì perché praticamente io sarò nuovamente in vacanza per tre giorni quindi praticamente almeno un video ve lo devo lasciare infatti mi sono programmato che questo lunedì o almeno il lunedì che diciamo che ho già passato per voi invece per me ancora deve arrivare sarò appunto in live penso la sera spero se riesco e poi mercoledì appunto cioè oggi per voi vi carico questo video vediamo di fare una partita decente perché tipo domenica ho fatto una streaming però eravamo un pochino la cosa stavo pensando molto ringraziamo ancora Matteo RDT che ci ha gustato un pochino la live però il problema è stato che comunque dopo una certa la playstation si era buggata che stava morendo male nel senso che stava morendo un pochino male praticamente si era buggata che non si stava spegnendo e poi dopo che ho staccato la spina perché non si stava spegnendo per niente ho provato a riattaccare la presa funzionava però non andava la scheda d'acquisizione al giro alla fine dopo chiudere le live anche se l'avrei continuato molto volentieri pare strana sta cosa che il carcere colabile non può essere messo su tutti le R c'è una cosa che mi ha lasciato molto ambivo ragazzi veramente abbastanza io intanto vorrei trovare un nemico da uccidere sarebbe magari una cosa bella però a quanto pare nessuno vuole spavare in questo momento scusate il silenzio ragazzi però come ho detto che dovevo concentrare perchè che bene il calcio regolabile mamma mamma la vita mia e porco giuda che spettacolo ragazzi andrei a pushare così tipo molto di cattivei ma non sono morti non sono morti no vabbè questa è bruttissima rega questo è proprio scandaloso è scandalosa sta morte è scandalosa sono riuscita a giocare bene ma non mi rinforziato al collo quando muori no rega sta andando male il suo giro è veramente una brutta lobby ho giocato molto meglio in live domenica che oggi e tagliere lo posso assicurare assieme è l'amarezza di stato non amorezza è la più grande ricchezza molte quelli bravo ma dai ragazzi dai cazzo detesto e il microfono se squaglia le macchine a roccia guaglia da sola senza fiamma se è sicoglia che parla è a legge del taglione che sa no male comunque cresce è proprio utile come specialista eh io ve lo consiglierei vincere dopo che sparate mi dà questi boost di xp che sono comunque buoni per la squadra e per voi prende quello che ti serve senza chiede e farlo per i motivi giusti tu che cazzo di f***i e che me so rotto il cazzo io chiamerei proprio gli approvvigionamenti ELICOTTERO madonna quanto godo quanto sto godendo quanto sto godendo sto facendo una partita di merda sperando che l'elicottero mi possa aiutare veramente perché la situazione è un po' critica martello è l'eclissi di pussi 8 kills sono veramente pochissime raga ma proprio poche 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 finisce è il cadavere di un cristiano cioè sono proprio i gameplay brutti capito? un po' di noiosi bello che sconfiate di botte in due col mio gemello sono tutto quello che avevi e che adesso non hai più sono i featuring che ti sei perso a straparla mamma mamma sa fare i stragi l'elicottero ok alto l'elicottero va bene così va bene così posto madonna ragazzi quanto sto godendo potete immaginare abbiamo ripartato la partita con l'elicottero in tre panchini a trattenere tutto il fumo della roccia è chi spaccia chi minaccia sulla traccia attenta allo spon... ne sono gli occhi grandi senza faccia è progettare un... mazzo non l'avevate visto? oddio mi sono capito in mano 15-5 ok onesto va benissimo va benissimo come risultato mi fa molto ma molto comodo mi fa molto ma molto comodo va bene va bene va bene va bene così va benissimo così madonna ci vediamo al prossimo video o live ciao 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 ciao